non so come si chiude questa roba ciao a tutti se si usa così questa roba volevo solo ammurarvi buona fortuna per gli esami e so che siete nei sbatti vedo le vostre storie vedo i vostri commenti su twitter e volevo solo dirvi che spero la mia musica vi possa far stare un po' più sereni quindi non lo so ritagliatevi 5 minuti della vostra giornata fate un video in cui vi divertite con mani vu e fatemelo vedere spero di potervi fare più il bene un bacio e in bocca al lato ciao ciao ciao